Cosa fare per prevenire il rischio sismico e in generale quelli naturali? Se ne è parlato a Rovito, in provincia di Cosenza, in un incontro promosso dal locale circolo del Partito Democratico e che ha visto la presenza del capo della protezione civile della Calabria, Carlo Tanzi. Io penso che in tutto questo assumo un ruolo fondamentale nel tema dei terremoti, il ruolo fondamentale lo assuma la prevenzione. Prevenzione intesa nello studiare e nell'informare i cittadini su come comportarsi nell'ipotesi di terremoti e prevenzione intesa nel porre in essere tutte le strutture materiali e immateriali necessarie a limitare il più possibile gli eventi dannosi. Da sindaco io penso che i punti su cui un bravo amministratore, un amministratore attento deve soffermarsi al fine di evitare conseguenze dannose, conseguenze dei terremoti, è innanzitutto la lotta all'abusivismo, il controllo da parte dell'ente all'osservanza nelle nuove opere della normativa vigente e diciamo verificare e soprattutto stare attenti, prestare particolare attenzione nella stesura dei piani regolatori, dei piani strutturali. Quello che si pone alla protezione civile è di rompere le barriere tra i vari compartimenti stagni della regione e di questo anche il professor Francesco Russo che è anche assessore nel ramo della protezione civile e dell'assetto del territorio ha già avviato da qualche giorno degli incontri proprio per favorire la comunicazione tra dipartimenti della regione che in passato sono stati ottenuti a stagna. Quindi questo innanzitutto e poi soprattutto sensibilizzare i sindaci all'approvazione e all'aggiornamento dei piani di emergenza comunali, i cosiddetti piani di protezione civile che praticamente dicono alla gente dove andare in caso di terremoto, frano alluvione, quali sono le zone sicure. E anche in questo senso quel progetto a cui abbiamo fatto riferimento è mirato anche alla divulgazione di un'app gratuita che possono scaricarsi i cittadini ma anche gli addetti ai lavori che in caso di calamità anche tramite la navigazione offline quindi in assenza di campo di collegamento alla rete del cellulare consente di guidare i cittadini così come si fa per Google Maps per esempio anziché versi i monumenti come accade per i turisti verso le zone sicure.